Fabrizio Antonielli Dulx e la sua associazione Vivant si stanno occupando di trovare i fondi per restaurare un monumento che c'è a Bruzzolo in Valle di Susa sulla Statale 25 sul ciglio della strada un monumento dedicato a Ermelino Matarazzo un monumento che risale al 1920 cominciamo a chiedere a Fabrizio Antonielli Dulx chi era Ermelino Matarazzo e per quale ragione c'è un monumento lì a lui dedicato Povero Ermelino Matarazzo sostanzialmente dimenticato anche perché chi passa sulla 25 non lo vede mai Allora Ermelino Matarazzo era l'erede di una grande famiglia ricchissima la ricchezza era nata alla fine dell'Ottocento quando partendo dalla provincia di Salerno il padre di Ermelino è arrivato in Brasile e ha costruito un impero erano la terza famiglia al mondo come ricchezza praticamente padrone in mezzo Brasile in sostanza ancora adesso le ferrovie del Brasile sono le ferrovie che loro usavano per le loro tenute per andare a vedere le tenute in giro per il Brasile bene Ermelino è a Torino decide una gita al Moncenisio da Susa poi partivano con le slitte per andare su con amici partono con la grande grossa macchina americana una Packard che avevano fatto venire dall'America ma a Bruzzolo per colpa di un imprudente ciclista si rovesciano nel fosso si rovesciano nel fosso e Ermelino muore il padre disperato fa costruire un monumento a ricordo del figlio non un piccola colonna alto un metro ma un monumento alto 6-8 metri dove non rappresenta uno soggetto sacro ma la madre piangente che di fatto un po' si confonde con la Madonna come immagine come cosa in questo stile ancora un po' Liberty già anche un tardo Liberty comunque bene questo monumento è abbandonato e dimenticato e nessuno più lo conosce Vivant ha deciso di restaurarlo quindi questo monumento dedicato a Ermelino Matarazzo al quale è stata anche dedicata è dedicata la scuola materna perché è certo perché il padre di Ermelino Matarazzo proprio per marcare questa presenza a Bruzzolo ha donato anche l'asilo quindi stiamo facendo adesso delle ricerche per vedere il progettista che era un grosso studio a nome Vandone di Cortemiglia e stiamo rintracciando i disegni e stiamo verificando come appunto il rapporto tra Ermelino Matarazzo e Bruzzolo fosse molto più profondo tant'è che per anni si sono frequentati, sono state visite di Ermelino Matarazzo a Bruzzolo e poi si è perso come succede ogni rapporto uno degli scopi di questo nostro voler restaurare il monumento è proprio riavvicinare il Matarazzo di qua e al di là dell'oceano perché ce ne sono anche ancora in Italia al paese di Bruzzolo E che cosa consiste il restauro del monumento e quando si pensa di cominciare l'intervento? Allora il restauro necessita di un consolidamento della base che sono dei grossi pietroni che si stanno muovendo con le radici degli alberi eccetera una ripulitura della statua perché ci sta crescendo sopra l'edera una pulitura di tutto il giardinetto che c'è intorno compreso il taglio di alberi che stanno soffocando la statua e poi vogliamo fare un'illuminazione in modo che almeno la sera si noti perché è illuminato e mettere magari un cartello col QR code in modo che i curiosi possano sapere chi era Ermelino e la storia di questo monumento Ecco, ultima domanda c'è in corso questa raccolta fondi come sta andando e se possiamo sapere chi è che ha contribuito fino ad ora? Ma sta andando bene nel senso che ho coinvolto sia i burzolesi che nel loro piccolo diverse persone hanno versato qualche cosa non conta tanto la cifra quanto il voler partecipare sia in Matarazzo sia dal Brasile sia dell'Italia e poi alcune aziende locali sensibili alla storia del paese vi leggo i nomi perché io non me li ricordo c'è la Core 3 la RICAM la Beltrame e anche significativa la CLN la Fondazione Magnetto di Almese è interessante che per esempio anche la farmacia di Bruzzolo partecipa e come dico anche i Matarazzo dal Brasile sentono la cosa e hanno inviato un po' di soldi anche loro quindi abbiamo quasi raggiunto il budget e partiamo con il restauro Quindi con la fine di febbraio abbiamo l'inaugurazione forse? Vi aspetto per la gran festa dell'inaugurazione che spero proprio sia alla fine di febbraio Grazie a tutti Grazie a tutti